Ben ritrovati gentili amici del canale youtube Gianluca Rossi TV e del sito Gianluca Rossi.it sempre alla ricerca di nuovi straordinari scenari marittimi qui a Carpatos, in particolare quest'oggi alla spiaggia di Chirapanagia, poi naturalmente girerò via via questa stupenda isola fino a fine settimana quando rientrerò in Italia, allora possiamo fare il punto della situazione dopo due giornate di campionato, il punto è completo, ci sono delle nuove sorelle perché è stata usata questa formula che sono sette, Atalanta, Juventus, le Romane, le Milanesi e il Napoli, 5 sono in vetta alla classifica a punteggio pieno dopo due giornate, devo dire che è in leggero ritardo l'Atalanta e la grande assente in queste due prime giornate è sicuramente la Juventus, staccata dal gruppone, dal pocherissimo di squadre che ha 6 punti, addirittura di 5 punti. Per molti dopo due giornate è già tempo di sentenze definitive, devo dire che già mi hanno scritto alcuni secondisti, sorpassisti, rigoristi, hai visto Gianluca, hai visto Giroud, hai visto Tonali su punizione, altro che Ciananoglu, devo dire che l'esaltazione dopo solo due giornate, 180 minuti è una costante, devo dire soprattutto tra i cugini di Campania, devo dire che loro già dopo due giornate hanno sempre, quasi sempre capito tutto. D'altronde l'anno scorso c'è da capire, campioni d'estate, poi campioni d'autunno, poi campioni d'inverno, campioni di carnevale e poi tac, dice campioni d'Italia. Però è bello, è bello che abbiano ripreso colore, è bello che tutti si sia contenti, anzi a me dispiace che non ci sia anche la Juventus tra questi, perché comunque adesso sono un pochino come il gatto, quando c'è un gatto che magari gli dà una scoppata e si rifugia sotto il tavolo, il tifoso juventino è così, convinto che ormai sia tutto da buttare, ma io sono qua per raccontare le cose più che per fare il tifoso e più che per accogliere i beceri e quindi dico, piano con l'esaltazione, io sto cercando naturalmente di tener calmi i miei, gli interisti, perché il fatto che noi si sia primi in classifica dopo due giornate era abbastanza scontato per quelli che erano gli avversari, ripeto, gli avversari Genoa e Verona e secondo me era abbastanza scontato che fosse primo anche il Milan, che fosse primo anche il Napoli, che fosse prima anche la Roma di José Mourinho, perché insomma gli avversari e anche la Lazio di Sarri, devo dire che gli avversari per tutti sono stati, diciamo la verità, dai ragazzi, abbordabili, un pochino di ritardo per l'Atalanta perché ha fatto il pareggio interno con il Bologna ma ci può stare, non è nulla di grave, certamente la Juventus a un punto, torno a dirlo, è una brutta, bruttissima partenza anche perché gli avversari in fondo, adesso parliamoci chiaro, a bocce ferme, Udinese in trasferta, non è mai stato un problema per la Juventus ed Empoli in casa, era presumibile che anche la Juventus fosse in nostra compagnia con sei punti, però vedete io ho sempre considerato le prime due giornate, perché poi c'è sempre la sosta per la nazionale, tra l'altro qui bisognerà anche aprire un discorso sui nazionali, perché si è pronunciata la commissione, la cosiddetta Cass del Tass per dire che comunque i nazionali devono andare in Sud America, mentre sapete che la Liga li vuole bloccare per ragioni di Covid, vi ricordate cosa è successo l'anno scorso, tutti i nazionali sono andati in giro, sono poi tornati col Covid e quindi adesso si annuncia anche in questi giorni una battaglia legale, ma al di là di questa cosa perché poi ho capito come sempre che alla fine i nazionali vanno, l'Inter con Simone Inzaghi ha dato qualche giorno di riposo, credo che quando riprenderanno a mercoledì si troveranno in sei o in sette, ma questo non è un problema di tutte le squadre, quindi io ho sempre considerato le prime due giornate di campionato come una coda del precampionato o intendiamoci, i punti sono sacri, ci sono i punti in palio, quindi è importante, fa parte del campionato, ma il campionato finisce il 22 maggio e tradizionalmente tutte le squadre ti sembrano straordinariamente pronte nelle prime due partite fino a quando arrivi alla sosta oppure per nulla pronte, ma poi il vero campionato inizia quando si incastra subito la Champions e cominciano ad esserci anche le partite ogni tre giorni, quindi diciamo che a mio giudizio per avere un'idea non dico definitiva, ma di fondo di questo campionato di Serie A dobbiamo naturalmente attendere la ripresa, ossia più o meno dal 12 settembre, perché poi ci sarà subito la Champions, ad esempio il calendario della Juventus, la Juventus adesso ha comunque Napoli e Milan e in mezzo se non ricordo male ha il Malmo, ma anche noi adesso al di là di Bologna e Sampdoria, dopo abbiamo l'Atalanta, cioè cominciano anche le partite un pochino più impegnative, quelle che forzatamente ti danno un'idea generale più compiuta di come va la stagione. Quindi l'esaltazione di questo momento da parte dei cugini campania, ma anche da parte degli interisti, francamente le trovo fuori luogo. Credo che però anche a Roma, sia laziali che romanisti in questo momento, ecco Mourinho è sempre lui e Sarri ci ha dato finalmente qualcosa in più e devo dire che sono un po' più contenuti, mi sembra, mi sembra ma magari mi sbaglio, i tifosi partenopei, tifosi partenopei mi sembrano un pochino più contenuti e d'altronde sono primi però anche loro e hanno comunque in Luciano Spalletti, voi sapete qual è la mia stima per Luciano Spalletti, io non faccio mistero, io ho chiamato al telefono Luciano Spalletti, ve l'ho già raccontato questo episodio, subito dopo lo scudetto vinto dall'Inter, proprio per fare i complimenti a Spalletti perché secondo me dietro il lavoro di Conte c'era stato un iniziale buon lavoro di Spalletti. Vabbè comunque voglio dire Spalletti è uno che sempre raggiunge l'obiettivo e per questo che nella mia ideale classifica finale, ideale insomma nella classifica che io penso alla fine del campionato di Serie A, secondo me nelle prime quattro il Napoli di Luciano Spalletti ci sarà. La Juventus è in grave ritardo, la Juventus probabilmente dopo aver perso Cristiano Ronaldo ha avuto un attimo voglio dire di, non voglio dire di tracollo perché mi sembra esagerato ma ha avuto sicuramente uno scompenso generale, questo è indubbio, mi ha molto colpito quell'immagine di Chiellini che in panchina dice non è una squadra, guardando la Juventus dalla panchina e comunque Chiellini può non piacerci se facciamo gli interisti milanisti ma vorrei ricordare che è il capitano nazionale campione d'Europa e insomma è uno che di calcio ne capisce, però io continuo a invitarvi a stare molto calmi sulla Juventus, immaginare certo che a 5 punti con 5 squadre che se ne sono andate, 5 punti di distacco verrebbe da dire è indubbio che la Juventus abbia fatto una falsa partenza, però io ricordo perfettamente quando Allegri nel 2015-2016 credo fosse l'anno poi di Higuain, 36 gol col Napoli capocannoniere, io ricordo perfettamente che la Juventus si ritrovò anche a meno 11 dalla vetta, meno 11 punti, adesso sono 5 e vinse poi 15 partite di seguito e andò a vincere il campionato, è vero le osservazioni che hanno fatto molte di voi sono verissime, non è più quella squadra là, la Juventus, sono assolutamente d'accordo con voi, però ripeto dopo due giornate dare sentenze, dare giudizi definitivi, ragazzi guardiamoci negli occhi se riusciamo mai grado il sole, mi sembra prematuro. Questo è il punto per il campionato, vado a farmi i miei soliti 15-16 bagni qui nell'isola di Carpatos, vi bacio, vi saluto e a presto.